E' ormai un appuntamento fisso nel Natale orlandino la mostra dei presepi coordinata dal direttore artistico Andrea Cipriano ed organizzata dall'assessorato al culto del comune di Capodorlando. L'esposizione presepiale inaugurata lo scorso 8 dicembre si ripresenta per il decimo anno consecutivo presso la chiesa Maria Santissima di Portosalvo in piazza Merendino. Oltre 100 rappresentazioni della natività da quelle dei maestri presepisti a quelle degli artigiani del vetro e del ferro fino ai presepi fatti dagli alunni delle scuole orlandine con lo scopo comune di diffondere l'atmosfera natalizia. Quest'anno abbiamo oltre 100 opere veramente bellissime, vengono un po' da tutta la Sicilia, d'Italia e qualcuno anche dall'estero. Quindi se volete portare i vostri bambini a vedere queste meraviglie fate una cosa veramente bella. Il presepe celebra la vita ma oltre la vita celebra la famiglia e soprattutto celebra l'amore tra tutti gli uomini, tra tutti i popoli. La mostra sarà fruibile fino al 7 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.